Screening di massa a Pesaro Urbino pronti 28 mila tamponi Focolaio a Casa Roverella più di 40 ospiti contagiati Bar e negozi senza corrente elettrica, disagi in viaggiolitti Restaurati balconi del Palazzo della Camera di Commercio Buonasera, eccoci pronti con il nostro telegiornale in questo martedì 15 dicembre In apertura parliamo dello screening di massa programmato dalla Regione Marche Un'operazione di prevenzione sanitaria senza precedenti che dal 18 al 23 dicembre Consentirà a Pesaro, Urbino e agli altri capoluoghi regionali Di sottoporre a tampone rapido, gratuito e volontario l'intera cittadinanza Questa mattina durante una conferenza stampa presso il Comune di Pesaro Area Vasta 1 e gli attori sanitari coinvolti hanno spiegato come si muoverà questa complessa macchina organizzativa Partire con uno screen di massa con gli operatori I nostri operatori che da marzo sono in piena campagna quasi non di guerra ma quasi È un problema molto molto importante però abbiamo la risposta degli operatori c'è stata Più o meno metteremo in campo circa 100 operatori al giorno tra Pesaro e Urbino Dal 18 al 23 gli orari sono dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 Perché chiaramente gli operatori abbiamo dovuto privilegiare il fatto che gli operatori molto sono turnisti Quindi debbano rientrare in luogo di lavoro quindi non potevamo chiudere reparti e quant'altro Riusciremo a fare circa sui 26-29 mila tamponi in tutto il periodo tra Pesaro e Urbino Quindi pensiamo che la risposta che riusciremo a dare è adeguata a quello che sarà l'accesso della popolazione Anche perché non è suo invito Volevo ringraziare chiaramente la regione che ha pensato di proporre su larga scala questo screening Anche perché per noi la prova del 9 è per il futuro Cioè quando saremo tutti impegnati a fare la vaccinazione di massa a tutta la popolazione Quindi è veramente una prova del 9 è la prima volta che viene fatta su larga scala uno screening così importante E vediamo come rispondere alla popolazione e come risponderemo anche noi Perché come ho scritto ieri a tutti i collaboratori Tocchiamoci tutti gli amuleti possibili perché è la prima volta che facciamo un qualcosa di così diffuso all'interno del territorio Il distretto e il dipartimento di prevenzione di concerto con le anagrafi Stabiliranno come comunicare alla popolazione interessata il luogo in cui verrà fatto per quel quartiere, per quella popolazione lo screening Chiaramente lo screening viene fatto in maniera, si chiama un test rapido La risposta si ha circa in 10 minuti più o meno Siccome un test rapido, la sensibilità è particolare, l'eventualità che viene il test rapido positivo Normalmente in Italia la popolazione che è positiva con questo test è intorno al 2-3% Verrà sottoposto immediatamente al tampone Quindi il soggetto verrà chiamato perché nella scheda che firmi il soggetto c'è anche il numero telefonico Quindi chiameremo il soggetto positivo e farà immediatamente il tampone per vedere se è positivo o negativo Chiaramente dovrà rispettare tutta la quarantena, quello che tengo a precisare Lo screening di massa è invito a tutta la popolazione ad eccezione dei minori di 6 anni Di tutti coloro che fanno gli screening periodici, quindi tutti gli operatori sanitari sono esclusi Logicamente chi è degente in ospedale, chi è degente presso le case di riposo, le strutture residenziali Questi no perché nei centri di uni noi facciamo gli screening ogni 15 giorni E chi ha sintomi, è importante dire questa cosa che chiunque abbia sintomi Anche il giorno stesso che intendeva fare lo screening di massa non si deve presentare E deve logicamente chiamare il proprio medico di medicina generale per attivare i percorsi corretti Abbiamo cercato di organizzarci al meglio con tre location, con tre grandi parcheggi Dividendo la città per quartiere, quindi la parte a nord interna che va a Vitrifrigo Arena La parte più centrale della città andrà al campus Colastico Invece la parte a nord della città più il centro del mare andranno alla scuola alberghiera Quindi così dividiamo i cittadini, evitiamo più possibile file e assembramenti Nel caso di fila, perché non si farà la prenotazione, gli anziani e coloro che hanno disabilità Ovviamente avranno la precedenza, passeranno avanti Quindi gli ambienti sono tutti chiusi e riscaldati Abbiamo avuto grande collaborazione da parte delle scuole superiori Che in questo momento sono chiuse, in gran parte chiuse Quindi speriamo appunto che siano sei giorni nei quali aumenteremo il controllo E di conseguenza la sicurezza sanitaria della nostra città Continua a rivelarsi altalenante l'andamento di contagi nella Regione Marche Per quanto riguarda il Covid-19 Ieri si era rilevata una percentuale di tamponi positivi del 29% Che oggi è invece scesa al 12% Nel dettaglio sono 228 i casi positivi rilevati oggi nella Regione Marche Su 1854 nuove diagnosi per un totale di 3.356 tamponi processati Sostenuto il dato dei contagi nella provincia di Pesaro Urbino Con 107 casi calano i ricoveri Scendono infatti a 545 pazienti in degenza ospedaliera Nella Regione Marche di cui 78 in terapia intensiva Nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati Anche 14 decessi di persone contagiate da Covid-19 E fra i casi Covid-19 nella nostra provincia di Pesaro Urbino È sotto attenta osservazione il focolaio che si è sviluppato come ben sapete a Casa Roverella Con decine di contagi tra ospiti della struttura e personale sanitario all'interno della Casa di Riposo Resta alta l'attenzione su Casa Roverella Residenza per anziani pesarese facente parte del Consorzio di Santa Colomba In cui da venerdì scorso è stato rilevato un focolaio di Covid-19 Che ha coinvolto 40 ospiti della struttura e diversi operatori sanitari Una situazione seguita passo passo dal distretto sanitario Mentre si valutano integrazioni di personale È sotto controllo, è comunque un focolaio importante Perché abbiamo più di 40 ospiti positivi E abbiamo 16 operatori positivi in questo momento Le persone sono quasi tutte asintomatiche Quindi in realtà vengono monitorate all'interno della struttura Io ho attivato in appoggio l'USCA Quindi i medici dell'USCA vanno tre volte a settimana di default sempre nella struttura E su chiamata logicamente Qualsiasi ospite abbia sintomi intercorrenti di qualsiasi tipo Viene tamponato col tampone molecolare per verificare se c'è poi una eventuale positività Sono già stati fatti tutti i tamponi a tutti gli operatori e a tutti gli ospiti E a cadenza di ogni 10 giorni Per vedere se il focolaio è spento o si sta accendendo ancora Vengono fatti questi tamponi Per ora diciamo che i risultati sono buoni Nel senso che gli ulteriori a 10 giorni li farò fra un pochetto Quindi vedremo cosa succederà Comunque la struttura è attenzionata Io effettuerò un sopralluogo domani con il Dipartimento di Prevenzione Ed ora passiamo alla cronaca Perché un ragazzo italo-argentino domiciliato a Pesaro È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio L'arresto è avvenuto durante un normale controllo di polizia Da parte della squadra mobile nei pressi del campo scuola di via Respighi Fermato alle 21.30 di ieri sera Il ragazzo è stato trovato in possesso di 33 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish Questa mattina una palazzina di via Giolitti che raggruppa diverse attività commerciali Ha avuto l'imprevista sorpresa di un'interruzione di energia elettrica Che ha creato forti disagi lavorativi per diverse ore Le stesse attività hanno voluto subito segnalare il disservizio a Rossini TV E noi quindi siamo andati ad ascoltarle Stamattina abbiamo avuto un grosso problema Perché senza nessun avviso ci è venuta a mancare la luce E quindi almeno un avviso per dirci che stamattina dalle 8.30 fino a oggi alle 2 Non c'era la luce solo che noi non abbiamo saputo niente Sono andato ai distributori della luce E mi hanno detto che praticamente l'unico caseggiato che è attaccato ad un cavo di via Fratti Perché i lavori li stanno facendo in via Fratti E non sapevano darmi un orario per la riattivazione della luce Per chi come lei è una gelateria immagino la conservazione del prodotto è molto complicata Sì sicuramente sì perché poi i frigoriferi quando cominciano a perdere un pochino di acqua Va sopra il prodotto e poi butti via tutto Non è più recuperabile Se consideriamo che siamo sotto il periodo natalizio e una pasta fresca lavora proprio in pieno Per noi è stato un disagio grosso quello della mancanza di luce questa mattina Che è andata via tutta in una volta Tutta la palazzina dove lavoriamo e quindi siamo trovati tutti senza luce Inaspettatamente perché non lo sapevamo E senza nessun avviso, senza niente Quindi ci ha creato un disagio grosso Io ho mandato a casa le dipendenti Perché senza luce non possiamo ne aprire il frigo E quindi ci siamo trovati molto molto male Senza nessuno poi che ci desse una spiegazione di tutto Non siamo stati avvisati Solitamente ci si mette un foglio Ci mettono un foglio alla porta E questa volta no I miei colleghi hanno chiamato E è stato detto che ci hanno avvisato Invece no, non c'è un foglio Anche nel mio bar no, di solito avvisano con un foglio Magari era volato Poi ci siamo sentiti tutti Nessuno di noi è stato avvisato Già è dura proprio il periodo Io ho appena riaperto Sono stata chiusa quasi tre settimane Però questo adesso In più dai Magari se ci avvisavano Prendevamo meno pezzi insomma La gente se ne va Poi oggi è un freddo Il secondo giorno del gelato La gente, il caffè Niente, io ho perso Poi un mio collega mi ha detto Che i lavori sono qua in Via Fratti Noi siamo attaccati a quella linea E quindi loro non sapevano Che Via Giolitti La linea nostra Di tutti i nostri uffici I nostri locali Sono attaccati a questa linea Penso anche gli operatori Dell'Enel dovevano saperlo Per fortuna Sono quasi le 11 E sembra che la situazione Si sia normalizzata E speriamo che possiamo Progredire la giornata Ripristinando tutti gli appuntamenti Che abbiamo disdetto E grazie a Dio Alle clienti che sono rimaste Fortunatamente Di riuscire a mandare via Con i capelli asciutti Durante il consiglio comunale Di ieri è stata rispinta La mozione del consigliere Della Lega Andrea Marchionni Di vietare Di far esplodere Fuochi d'artificio Petardi e giochi Pirici Di qualsiasi genere Su tutto il territorio comunale Nelle giornate festive E in particolare Nella giornata Del 31 dicembre E primo gennaio Molto critico Il gruppo consigliare Della Lega Che attraverso una nota Fa sapere come la proposta Volesse tentare Di ridurre al minimo Il rischio inutile Di gravare sulle strutture sanitarie O di dover ricorrere Ai vigili del fuoco A causa di incidenti Dovuti a questi petardi Dopo i bonus pesa Ai bonus bambini Il comune di Pesaro Ha consegnato oggi Anche il primo bonus blocco Attività Di 1000 euro A quelle aziende Che a causa della pandemia Hanno avuto Un 80% di calo Del fatturato Un primo voucher Che il sindaco Matteo Ricci E l'assessore All'attività economica Francesca Frenquellucci Hanno consegnato A Fabio Del Vecchio Dell'agenzia Viaggi E Tour Operator Le vie del nord Due corse al giorno Gratuite Almeno fino a dicembre Per gli operatori sanitari Che decideranno Di usare I 200 monopattini Collocati Nel territorio comunale E questa L'iniziativa ideata Dall'azienda americana Bird In collaborazione Con il comune di Pesaro Che ha pensato In questo modo Di omaggiare In maniera utile E sostenibile Il lavoro Del personale sanitario Ed ora lo spazio Dedicato alle vostre Segnalazioni Come sempre vi ricordiamo Di inviarcele Al numero Whatsapp 370-366-7210 Oggi pubblichiamo Alcune foto Che ci sono state Inviate Da un nostro Telespettatore Che ci segnala Come da quasi Due mesi All'incrocio Fra Via Nino Mixio E Viale 24 Maggio Si trovino Alcune biciclette Incatenate Ai pali Della segnaletica Stradale Che invadono Parte della careggiata Con queste foto Il telespettatore Invita a valutare Se sia opportuno Un intervento Di rimozione Per intralcio A una strada E a un marciapiedi Piuttosto trafficati Dopo il restyling Di Palazzo Perticari Continua sempre più Ad abbellirsi Il corso 11 settembre Sono stati Infatti Restaurati Anche i balconi storici Del Palazzo Della Camera di Commercio Un progetto Di riqualificazione Previsto Dalla Camera di Commercio Delle Marche In ogni sede Camerale regionale Cominciato proprio Da Pesaro Vediamo quindi A tal proposito Le interviste Realizzate Da Antonio Astuti Siamo partiti Da Pesaro Proprio per avere La possibilità Di poter Ammirare Far ammirare A chi vive In questo capoluogo La bellezza Storica Vincolata anche Dalle belle arti Di questa sede Abbiamo iniziato Da una parte Che purtroppo Nel tempo Non è che si era Deteriorata Ma aveva dei problemi Vuoi per Diciamo Gli eventi Atmosferici E anche Un po' Di incuria Tenuta Negli anni passati Oggi Grazie Grazie All'attività Di un'azienda Artigiana Che ha lavorato Alle clemente Sul recupero Al nostro Ufficio Di progettazioni Con il geometra Capannari Tutta la struttura Camerale Dal segretario Generale Schiavone Al dottor Zantri Iniziamo Da Pesso E recuperiamo Delle bellezze Che su questa sede Fanno una differenza Enorme E dare Una nuova Immagine Anche visiva Delle nostre sedi Per le comunità Dove queste Hanno la locazione È importante È importante In un momento In cui L'economia Ha delle problematiche Far vedere Che Investiamo Dei pochi soldi Ma quei pochi soldi Sulle nostre sede Le investiamo Per avere Anche una dignità D'immagine E un recupero storico Di questi Di questi edifici È una valorizzazione Anche per Tutto Quel mondo Turistico Che visitano Le nostre città E nei giorni Del FAI Vengono visitate Anche le nostre Camere di commercio Come delle bellezze Che hanno All'interno Delle opere D'arte Importanti Un recupero Prezioso Di spazi E di elementi Architettonici Diciamo Di questa città Di questa comunità Che credo Costituiscano Veramente O apportino Valore aggiunto Al sistema Culturale E architettonico Urbanistico Di questa città Siamo dentro Un palazzo Che è anche Un esempio Mirabile Di architettura Razionalista Molto ammirato Molto visitato Nell'occasione In cui attraverso Il FAI O attraverso Altre aperture Stordinarie Viene reso Visibile Oltre che per le funzioni Della camera di commercio Ma è anche Un bellissimo segno Chiaramente moderno All'interno All'interno del tessuto Di corso 11 settembre In generale Di questa parte Del centro storico Quindi In più Lasciatemi dire Insomma L'abitudine A guardarsi Guardare un po' in alto Guardare i balconi Eccetera L'abbiamo Scoperto Anche organizzando In passato Dei concerti Si era un po' persa Siamo sempre a guardare I telefonini Siamo sempre a guardare Per terra In realtà Spesso non vediamo La bellezza Delle nostre vie Le bellezze architettoniche Tra cui la facciata Il palazzo Ma anche in particolar modo I balconi Che sono stati riscoperti Oggi Restaurati E che appunto Testimoniano La loro bellezza Anche la loro cifra storica Architettonica Del periodo Che stanno a testimoniare Quindi È sicuramente Un bellissimo intervento Per cui ringraziamo La camera di commercio In una strategia Regionale Di qualificazione Di qualificazione Le proprie sedi Ed è anche un bel segnale Sul corso Ora che È stata anche riscoperta La facciata Di Palazzo Perticari Speriamo presto Che possano procedere Anche l'inaugurazione E quindi una via A cui teniamo molto In termini di passeggio Ma anche in termini Di commercio Poi siamo a sede La camera di commercio Qui E che sarà anche Al centro dell'attenzione Degli investimenti Dei prossimi mesi Dei prossimi anni Che vorremmo mettere Sia nel recovery fund Che nel Progetto di Regenerazione urbana Che spingeremo Sul centro All'Alessander Museum Palace Hotel Di Pesaro È andata in scena La tredicesima edizione Del premio Raffaello Un riconoscimento Ideato dal conte Alessandro Marcucci Pinoli Che in questa edizione 2020 Ha premiato L'arte poetica Dello scrittore E attore Dialettale Carlo Pagnini Dal 2008 Ad oggi Il premio È rimbalzato Fra le mani Di nomi della cultura Quali Valerio Massimo Manfredi Pupiavati Tonino Guerra Sergio Zavoli O Pierluigi Pizzi Questa volta La tredicesima edizione Del premio Raffaello Ideato dal conte Alessandro Marcucci Pinoli È stato consegnato Al custode Del dialetto Pesarese Carlo Pagnini 92 anni Il poeta Il poeta e attore È stato premiato All'hotel Alexander Museum Palace Di Viale Trieste Ogni volta Sono sempre più emozionato Più mi invecchio E più mi commuovo Perché Lo ripeto forse troppe volte Ma è più quello che ricevo Di quello che do Perché quello che do È tutto materiale Che ho fatto Durante gli anni Fin da quando ero bambino E praticamente Adesso viene valorizzato Da questi mezzi moderni Televisione Radio Computer Ho la possibilità Di vedere l'effetto Che fanno Questi miei pensieri È un premio Che è nato Per il mio amore Per l'arte E la cultura Da appena Ho inaugurato Questo albergo Ed è un premio Volto a tutti Quello che danno Un contributo Alla cultura E all'arte Sia musicale Nella musica Sia Nelle arti visive Sculture Pitture Fotografia Sia Nella poesia Come appunto Questa sera Nel caso Del grande Carlo Pagnini Che è un grande Poeta Scrittore E anche attore Che ha valorizzato Tra l'altro Pasqualone Quindi un premio Meritatissimo Nei primi anni L'ho dato A grossi personaggi Personalità A livello nazionale Da Pupi Avati A Tonino Guerra A Nissone Insomma Questi grossi nomi Poi ho pensato Di darlo invece A dei pesaresi Perché il Nemo Profeta in patria Mi dispiaceva Perché Alle volte Uno va a trovare Il premio A chissà chi E non pensa All'amico Della porta a canna Quindi ho cominciato A darlo A Mariotti Un anno Un anno L'ho dato Alla Zaila Dolci L'anno scorso Che ha fatto Tanto per l'arte E quest'anno Non potevo Non darlo A Carlo Pagnini Che conosco Da una vita Che è l'unico Che ho conosciuto Da che amicentura Anche i miei nonni E che Con il quale Ho anche recitato Grazie a lui Che mi ha invitato A recitare con lui Mi ha corretto Quelle poche cose Che ho scritto In dialetto Perché Lui è un maestro Anche nel dialetto Pantanese E quindi Insomma Poi ci siamo conosciuti Appunto Conoscendo i miei genitori E i miei nonni Poi quando lui era in banca Sempre Ma non è che l'abbia dato Perché Non conosco da sempre L'ho dato perché È una persona Di grande valore In tutti i campi Non solo Come poeta Scrittore E attore Ma come persona Una persona deliziosa Veramente una persona Che dà il buon esempio Ed ora Vediamo Qualche consiglio Utile Per abbellire E addobbare Le nostre case In questo periodo Natalizio Ciao a tutti Sono Federico Di Garden Center Florio Ci troviamo qui A Pesaro In via Lombardia Zona via Toscana Sicuramente Non può mancare Un bel albero Addobbato Come questo Oltre ai colori classici Quali il rosso L'oro Il bianco O l'argento Vi posso consigliare Un grande trend Di quest'anno Che è sicuramente Il rosa Vi consiglio L'abbinamento Con un albero Innevato In modo da Fare spiccare Meglio i colori E possiamo Questi Abbinarli Con il nero Altra novità Di quest'anno L'abbinamento Insieme È molto bello E ve lo consiglio Inoltre Oltre a un bel albero Addobbato Possiamo abbinarci Una lanterna Come questa Artigianale Vengono lavorate Proprio da mio padre All'interno E in questo caso Abbiamo un bel angelo Con delle lucine E delle palline Sempre rosa Ma lancio anche Questo servizio Che abbiamo deciso Di fare quest'anno Se avete anche a casa Delle lanterne vecchie Che non utilizzate Potete portarcele E noi le lavoriamo Completamente Personalizzandole Quindi scegliamo Insieme gli articoli Da metterci all'interno E poi noi le andremo A comporre Tutti i weekend Avremo Babbo Natale Nella sua casetta Che vi aspetterà Per portargli la letterina E per fare una foto Insieme a tutti i bambini Avremo due fantastici pony Pronti ad essere accarezzati Tanti piccoli animaletti Con i quali giocare E poi un presepe Con figure, personaggi E grandezza naturale Che al buio È veramente bellissimo Vi consiglio di venirlo a vedere E poi il nostro showroom natalizio Con alberi, palline Decorazioni Angeli, elfi, lanterne Tutto quello che riguarda L'abbinamento E la decorazione Della vostra casa Balcone E al vostro giardino Vi aspetto Tutti i weekend Siamo aperti Dalle 8 Alle 12.30 Nel pomeriggio Dalle 15 Alle 19.30 Ci sarà anche Babbo Natale Siamo arrivati Alla chiusura Del nostro telegiornale Ma prima Dobbiamo ricordarvi Quella che è La nostra prima serata Infatti Questa sera Alle 21.15 Trasmetteremo Questo bellissimo Pesaro Music Awards Organizzato dall'Orchestra Sinfonica Rossini In questa Digital Edition Un appuntamento Quindi da non perdere Come è da non perdere Anche la nostra Consueta Rassegna Stampa Che ritorna domani Alle 7.20 In diretta Con tutte le notizie Del nostro territorio Grazie mille E buona serata